ha tentato di violentare la figlia ventenne della convivente. Per questo è stato arrestato un 45enne rumeno domiciliato presso l'abitazione della sua compagna nella periferia della città di Cassino. Dovrà rispondere di tentata, violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo, tratto in arresto nel 2011 per violenza sessuale di gruppo, si è arrecato all'interno della stanza occupata dalla figlia ventenne della donna con cui convive e con banali scuse ha iniziato a palpeggiarla. Nonostante il rifiuto della giovane, il rumeno con forza l'ha spinta sul letto e dopo averla toccata nelle parti intime ha cercato di avere un rapporto sessuale con lei. Alla richiesta di aiuto della vittima è sopraggiunta la madre, una 49enne italiana, che inspiegabilmente invece di aiutarla l'ha offesa accusandola di aver provocato l'accaduto. L'uomo a questo punto ha iniziato a dare calci, pugni alla ventenne, afferrandola anche per i capelli, ma la vittima è riuscita fortunatamente a scappare dall'abitazione inseguita dall'uomo. In tale frangente, con il telefono cellulare, ha chiesto aiuto alla centrale operativa che immediatamente ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri. All'arrivo dei militari, l'uomo è rientrato velocemente all'interno dell'abitazione cercando di sottrarsi al controllo, venendo però prontamente bloccato e tratto in arresto. La giovane è stata condotta presso il pronto soccorso dell'ospedale di Cassino per le cure del caso, dove i sanitari le hanno riscontrato, alcuni traumi contusivi al viso, ai polsi e al torace, giudicandola guaribile con alcuni giorni di prognosi. L'arrestato dopo le formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaga.